Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao ragazzi, sono Sofì e sono una studentessa di medicina al terzo anno. Tre anni fa ho messo l'Insubra al primo posto dopo aver parlato con amici più grandi che si ritenevano soddisfatti della propria scelta e dopo aver partecipato all'open day. All'Insubra non si studia soltanto, ma si creano forti legami di amicizia, gli spazi per noi studenti non mancano e ci sono anche molti eventi e attività extra. Per esempio, quest'anno partecipo un internato di anatomia umana, dove ho potuto mettere in pratica i miei studi, accrescendo così la mia curiosità e la mia passione. Sono molto contenta della mia scelta e ti invito il 15 maggio a partecipare all'open day online dell'Insubra.